Sequestrati 3 milioni e mezzo di articoli per la festa di Halloween contraffatti e segnalati sette soggetti. La Guardia di Finanza di Cosenza ha permesso di individuare diverse società gestite da alcuni cinesi che vendevano articoli pericolosi importati da paesi dell'area asiatica. Nel corso delle indagini i finanzieri hanno individuato capi e accessori d'abbigliamento, maschere, gadget e materiale di vario genere horror, in un contesto non in linea con le prescrizioni previste dal Codice del Consumo. Gli articoli posti sotto sequestro destinati a giovani consumatori sono risultati potenzialmente pericolosi poiché gli acquirenti indossandoli sarebbero stati esposti al rischio di contrarre infezioni cutanee e altre malattie dermatologiche. Grazie a tutti.